Sembra quasi paradossale che dopo l'attentato a Donald Trump del 13 luglio scorso, proprio lui, che per anni ha sostenuto e promosso una serie di teorie del complotto, ora si trovi al centro di numerose speculazioni che riguardano lui e l'attacco subito. Le stesse dinamiche che ha alimentato con la sua retorica sembrano essergli si rivoltate contro, generando una miriade di ipotesi e supposizioni su chi possa esserci dietro l'attentato e quali siano i veri motivi. Questo intreccio di ironia e realtà dimostra quanto sia facile e al tempo stesso complesso diventare oggetto delle stesse narrative che si è contribuito a creare, ma soprattutto l'ascesa di alcune di queste nuove teorie cospirative è un segno che la deformazione della realtà si sta diffondendo ben oltre la destra. Sono Simone Fontana. Io sono Anna Toniolo. E questo è Veramente, il podcast di FACTA che una volta a settimana affronta i principali temi di attualità nell'ottica della disinformazione, raccontando il modo in cui false narrazioni e stereotipi impattano sulla vita di persone e comunità. Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 luglio, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio a Butler in Pennsylvania. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sparatoria sarebbe avvenuta alle 18 e 11 ora locale, poco dopo la mezzanotte italiana, quando Trump era sul palco da otto minuti e stava descrivendo alcune statistiche sui flussi migratori, criticando la gestione dell'amministrazione Biden. Mentre diceva probabilmente 20 milioni di persone, il discorso di Trump è stato interrotto dal rumore degli spari e da uno spettatore che urlava ha una pistola, è sul tetto, ha una pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto Donald Trump, che ha riportato delle ferite lievi all'altezza dell'orecchio destro, ma non è mai stato in pericolo di vita. Il candidato del Partito Repubblicano alle presidenziali del prossimo novembre è stato immediatamente messo in sicurezza da tre agenti del Secret Service, l'agenzia governativa che garantisce l'incolumità del presidente, del vice e degli ex presidenti degli Stati Uniti. In tutto, nel corso della sparatoria, sono stati esplosi otto colpi che hanno ucciso un sostenitore di Trump, Corey Comperatore, ex capo dei vigili del fuoco che era la manifestazione con la famiglia e ne hanno feriti gravemente altri due. Fin qui la ricostruzione dei fatti, nuda e cruda, come arrivata in diretta nelle case di milioni di telespettatori. Ma mentre il mondo intero cercava di ricostruire la dinamica dell'attentato con notizie parziali che diventavano via via più circostanziate, una parte dell'informazione internazionale si è lasciata ingannare dal tweet di un utente italiano che per primo ha riportato il nome e il volto del presunto attentatore. Solo che era quello sbagliato. Tutto è iniziato a mezzanotte e 52 ora italiana, quando l'utente Mussolino, noto su X come Cane della Violesia, ha pubblicato su X un messaggio in inglese che con un linguaggio apparentemente giornalistico riportava la notizia dell'arresto dell'attentatore di Trump, spiegando che sarebbe stato arrestato e, cito, identificato come Mark Violets, un rabbioso estremista antifa. Il post era accompagnato poi dalla foto di un uomo con indosso un berretto e occhiali da sole neri. L'uomo nella foto era in realtà Marco Violi, youtuber, giornalista e tifoso romanista, che da tempo denuncia di essere perseguitato da alcuni utenti su X. Il nome Mark Violets, insomma, altro non era che l'inglesizzazione di Marco Violi e l'intera dinamica una sorta di inside joke della comunità italiana che parla di calcio su X, il cosiddetto Twitter calcio. Gli attimi immediatamente successivi ai grandi avvenimenti, si sa, sono in genere anche i più delicati per la circolazione di disinformazione, con immagini decontestualizzate e notizie non verificate che si inseriscono nel concitato flusso informativo ancora privo di certezze. È così che il post dedicato a Mark Violets ha fatto letteralmente il giro del mondo, rilanciato da account con la spunta blu da oltre un milione di follower, noti per diffondere disinformazione, come Wall Street Silver, e da canali americani filotrampiani come Real America's Voice, che ha condiviso la foto di Violi durante la sua diretta streaming dedicata all'evento. La notizia è stata riportata anche da numerose testate giornalistiche, dall'Uruguay al Messico, Passando per l'India, è stata condivisa dal corrispondente dalla Casa Bianca per Today News Africa, Simon Ateba, ed è stata tradotta in italiano da News Pravda, il nodo italiano di una rete di siti vicini alla propaganda del Cremlino. L'attenzione mediatica generata dalle condivisioni ha portato a un notevole picco di ricerche Google relative a Mark Violets, anche negli Stati Uniti. Con un post pubblicato su Instagram nelle prime ore del 14 luglio, Marco Violi ha smentito di essere stato coinvolto nei fatti di Butler, aggiungendo, e cito, Mi trovo in Italia, sono a Roma e non avevo la minima idea di quello che fosse successo. Le notizie che circolano sul mio conto sono totalmente prive di fondamento, e sono organizzate da un gruppo di hater che dal 2018 mi stanno rovinando la vita. Nei giorni seguenti, l'incredibile disavventura di Violi è stata ripresa persino dal conduttore americano John Stewart, durante la popolare trasmissione The Daily Show. L'autore della sparatoria non è, ovviamente, Marco Violi, bensì Thomas Matthew Crookes, un ventenne nativo di una cittadina della Pensilvania registrato nelle liste elettorali come repubblicano. Crookes è stato ucciso dai cecchini del Secret Service, pochi secondi dopo aver premuto il grilletto del suo fucile semiautomatico AR-15. È al momento in cui registriamo, gli inquirenti stanno indagando sulle motivazioni del gesto. Un evento di questa portata poteva essere esente dalla disinformazione e dalle teorie del complotto? Ecco, mi sento di rispondere con certezza, no. E sembra quasi paradossale che un personaggio come Donald Trump, che negli anni ha promosso numerose narrazioni della disinformazione, ma soprattutto teorie della cospirazione, si trovi oggi al centro proprio di ciò che per una vita ha sostenuto e ancora continua a sostenere. Online hanno da subito iniziato a circolare numerose notizie false, come ad esempio quella secondo cui il New York Times avrebbe cancellato la bandiera americana dalla foto dell'attentato contro Trump. Spoiler, nella foto originale non si vede la bandiera, non c'è alcun mistero sotteso. O ancora quella secondo cui sulla giacca di Trump si vedrebbe il foro di un proiettile, quando in realtà si tratta di una piega all'attaccatura della manica del vestito di una delle guardie della sicurezza a corse sul palco per proteggere Trump. Oltre a queste però, a diffondersi con ancora più forza tra gli utenti online sono state alcune vere e proprie teorie del complotto, secondo cui esisterebbe una verità diversa da quella raccontata dalle autorità e dai media, sull'attentato al candidato repubblicano. Le frange politiche sia di sinistra che dell'estrema destra hanno colto l'occasione per creare la loro narrazione, polarizzandosi ulteriormente e diffondendo informazioni prive di fondamento. Nelle ore successive all'attentato i social network si sono riempiti di hashtag come staged, cioè inscenato in italiano, fake assassination, che possiamo tradurre come falso attentato, e staged shooting, cioè sparatoria inscenata, mentre prendeva a piede un ritornello familiare. Non fidarti di quello che ti dicono. Da un lato, gli account più conservatori e i sostenitori di QAnon, cioè la teoria cospirazionista di estrema destra secondo cui esisterebbe un piano per assassinare Donald Trump, ordito da un deep state formato da celebrità di Hollywood e da esponenti dell'elite democratica, hanno espresso le loro teorie sulla sparatoria, accusando principalmente appunto il deep state, ma anche l'intero apparato statale e il movimento antifascista Antifa. E ancora Joe Biden e i democratici sono stati incolpati di essere i mandanti dell'attentato a sfondo politico, contro il candidato rivale alle prossime presidenziali. Ad esempio Mike Collins, membro del partito repubblicano e rappresentante per il decimo distretto congressuale della Georgia, ha postato su X un contenuto in cui dichiarava, e qui cito le sue parole, Joe Biden ha mandato gli ordini, guadagnando al 19 luglio ben quasi 17 milioni di visualizzazioni. Ma ancora, utenti conservatori e pro-Trump hanno riempito i social di contenuti in cui si chiedevano come Thomas Matthew Crookes, cioè l'attentatore immediatamente ucciso dai cecchini del Secret Service, sia riuscito ad arrivare così vicino all'assassinio di Trump, sottintendendo che ci fosse un complotto messo in atto dall'attuale governo insieme alle forze di sicurezza e dai membri stessi del Secret Service. L'account The Older Millennial.1, che su TikTok conta 1,2 milioni di follower, in alcuni dei suoi video accusa apertamente la sinistra di essere alla base di questo attentato, dichiarando che proprio la stessa sinistra è perfettamente in grado di commettere violenza politica. Dall'altro lato, persone e utenti legati invece all'area democratica, progressista e pro-Biden, hanno cominciato a condividere notizie secondo cui la sparatoria sarebbe stata messa in scena appositamente dai sostenitori di Trump. Secondo una delle teorie che ha avuto più seguito, gli spari provenivano da una pistola a pallini o da una pistola fantasma costruita con parti stampati in 3D. Sembra una vera e propria messa in scena, si legge in un post su X che al momento in cui registriamo, cioè venerdì 19 luglio, ha ottenuto quasi 10 milioni di visualizzazioni. Nessuno tra la folla corre o si fa prendere dal panico, nessuno tra la folla ha sentito una vera pistola, non mi fido, non mi fido di lui. Continua così lo stesso tweet. La proliferazione di queste teorie non è stata fermata nemmeno dai video che hanno iniziato a circolare subito dopo l'attentato e alcuni hanno addirittura affermato che la foto che mostra Trump sanguinante con il pugno alzato fosse dannatamente perfetta per essere vera. L'obiettivo di questo tipo di teorie è quello di sostenere che l'attentato fosse orchestrato direttamente da Trump e la sua squadra per far risalire i sondaggi del candidato che erano in calo. Alcuni blog progressisti hanno accusato Trump apertamente di aver inscenato quella che viene chiamata false flag, cioè un'operazione commessa con l'intento di mascherare l'effettiva fonte di responsabilità e incolparne un'altra. Si tratta di un fenomeno che è stato definito Blue Anon, un termine che indica cioè la versione democratica di QAnon, di cui vi ho parlato poco fa. Questo concetto era stato elaborato ancora nel 2021 da vari utenti repubblicani e in particolare dalla sostenitrice di QAnon e rappresentante della Georgia alla Camera, Marjorie Taylor Greene per indicare la presenza di una teoria cospirazionista avversa a quella di estrema destra. Un'altra delle teorie circolate per screditare la veridicità dell'attentato è quella secondo cui in realtà l'orecchio di Trump non sarebbe stato realmente ferito, ma si sarebbe trattato di banale catch-up o addirittura di un particolare trucco utilizzato sui set cinematografici. In realtà le immagini immortalate dal fotografo Doug Mills mostrano il proiettile mentre è sulla sua traiettoria verso Trump e alcune foto pubblicate dal New York Times mostrano il candidato repubblicano con la mano sporca di sangue. Inoltre ricordiamo che nell'attentato a causa del proiettile che ha solo sfiorato Trump è stato ucciso un partecipante al comizio e altre due persone sono rimaste ferite. E poi oltre alle varie teorie circolate non potevano mancare i soliti discorso d'odio misogini e sessisti. Torniamo alle teorie diffuse dall'estrema destra. Nelle ore successive allo sparo è emersa una narrazione sessista che spiegherebbe come i servizi segreti abbiano potuto permettere una così grave mancanza di sicurezza. La colpa sarebbe delle donne che fanno parte del suo servizio di sicurezza. Il dito infatti è stato puntato contro alcune delle donne del Secret Service e contro Kimberly Cheadle, direttrice dell'agenzia e seconda donna a ricoprire questa carica, che aveva parlato apertamente dei suoi sforzi per reclutare più donne nel servizio. Cheadle aveva affermato che l'obiettivo dell'agenzia era di avere donne che rappresentano il 30% delle reclute entro il 2030, mentre attualmente rappresentano poco meno di un quarto della forza lavoro dell'agenzia. Il Secret Service è ora sotto esame per come tutti gli agenti hanno protetto il sito del comizio e hanno risposto alla sparatoria, ma questo è solo l'ultimo e il più significativo episodio di una lunga saga di errori commessi dall'agenzia. E fino ad ora non è emersa alcuna prova che la risposta di un agente al servizio di Trump abbia causato o contribuito alla debacle del servizio di sicurezza. I conservatori sono convinti che le politiche che promuovono la diversità nelle assunzioni siano intrinsecamente ingiuste e distruttive, e quando riguardano organizzazioni come l'esercito o varie forze di sicurezza addirittura pericolose. Kim Craven, direttrice esecutiva della National Association of Women Law Enforcement Executives, organizzazione nata per rispondere alle esigenze specifiche delle donne che ricoprono posizioni dirigenziali nelle forze dell'ordine, ha affermato che le discussioni sull'opportunità o meno per le donne di prestare servizio in una scorta rappresentano un diversivo rispetto alle importanti questioni di sicurezza sollevate dal tentato assassino, dichiarando che per secoli ci sono stati incidenti critici mentre c'erano degli uomini al comando, e non c'è mai stato il dubbio che dovessero lasciare la loro posizione dirigenziale a causa del loro genere. Melanie Barkholder ha lavorato per sei anni come agente speciale dei servizi segreti, e nel 2012 ha protetto il candidato repubblicano alla presidenza, Mitt Romney, durante la sua campagna elettorale. E in un'intervista ha dichiarato di aver trovato semplicemente ridicolo il dibattito sulla possibilità per le donne di prestare servizio nell'agenzia, sottolineando che le prime donne che hanno lavorato come agenti protettivi sono state assunte nei servizi segreti nel 1971. Fatto sta che quando la sera di lunedì 15 luglio Trump è salito di nuovo sul palco alla Convention Nazionale Repubblicana di Milwaukee, è stato affiancato da una scorta di agenti segreti, che sembra essere tutta al maschile. Sulle reali motivazioni che hanno spinto Thomas Matthew Crooks a organizzare un attentato contro la vita di Donald Trump sappiamo ancora troppo poco, ma possiamo facilmente immaginare che l'infocato clima di tensione creato in questi anni dal candidato repubblicano e dalla sua propaganda, unito alla permissiva politica sulle armi in vigore negli Stati Uniti, possa in alcune circostanze diventare un mix letale e trasformarsi nelle immagini che abbiamo finora descritto. Esistono invece alcune lezioni più pragmatiche che possiamo trarre dalla storia di Mark Violets e dall'enorme quantità di disinformazione circolata su questa vicenda. La prima è che, per quanto assurda, questa storia dimostra che X è diventato un posto ormai del tutto inaffidabile. È che la piattaforma un tempo nota per ospitare aggiornamenti in tempo reale di autorevoli giornalisti è stata coscientemente trasformata dal suo proprietario in un luogo che premia il caos e le menzogne. La seconda riguarda la mediocrità di alcuni mezzi di informazione, che in nome della rapidità e di una manciata di click sono disposti a rinnegare i più basilari standard di verifica, preferendo propinare ai propri lettori un pastone di cose prese acriticamente dalla rete. La terza e ultima lezione è quella che ci dimostra come il trolling non sia mai un esercizio del tutto innocuo, perché soprattutto su internet il divertimento di alcuni va sempre a discapito di qualcun altro, individui, comunità, a volte del concetto stesso di informazione. E da lì a svegliarsi con il proprio volto in tv associato all'attentato contro un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, beh, a volte è veramente un attimo. FACTA è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglie a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, X, Facebook, Instagram e TikTok. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione, potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp. Il podcast di FACTA è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo, è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di FACTA.